Rapine in farmacia e tabaccherie. La polizia di Rimini ha individuato due soggetti tossicodipendenti che si procuravano illecitamente il denaro per soddisfare le loro necessità. La squadra mobile ha arrestato Luca Belcastro, pluripregiudicato 36enne di Andrea, residente a Rimini, ma di fatto senza fissa dimora. Lo scorso 23 gennaio, armato di coltello a serramanico, ha tentato di rapinare la farmacia San Michele in via circonvalazione occidentale, ma la pronta reazione della donna, che ha preso il cellulare per chiamare il 113, l'ha costretto ad esistere dai suoi propositi. Il 36enne è stato rintracciato a Montegrimano, in provincia di Pesaro, presso la comunità Serenity House, dove era in cura per la sua tossicodipendenza. Il secondo rapinatore, balzato agli onori della cronaca, è un riminese 25enne, senza fissa dimora, in quanto cacciato di casa dalla madre. Nei suoi confronti è stato eseguito sabato il fermo di polizia giudiziaria, il GIP non ha però convalidato l'arresto. Il quadro probatorio non sarebbe esaustivo. Le otto rapine in questione, tra tentate e riuscite, effettuate a Rimini dal 7 al 21 marzo, in farmacie, tabaccherie e una lavanderia, porterebbero la firma di due individui, uno particolarmente alto, individuato nella figura del 25enne, l'altro più basso. Il modus operandi delle otto rapine è lo stesso. I malviventi hanno agito con il volto travisato da un cappellino o da una felpa, armati di taglierino o siringa, attendendo l'orario di chiusura. Il tutto in negozi, gestiti da personale femminile e in assenza di clienti. Sicuramente abbiamo già visto in diverse circostanze il risultato che può dare un buon impianto di videosorveglianza che permette di immortalare il malcapitato che appunto fa ingresso all'interno dell'esercizio sicuramente con un fare non lecito. Quindi mi ritengo di dover suggerire gli esercenti di migliorare o munirsi di un sistema di videosorveglianza.